Io vorrei essere un Presidente del dialogo sociale. Garantire la posizione dell'Europa richiede crescita, non semplicemente finanziata con i debiti che portano fuochi di paglia. Abbiamo bisogno di sostenibilità, crescita sostenibile per decenni, abbiamo bisogno di investimenti ambiziosi che migliorano il lavoro e la concorrenzialità. Abbiamo bisogno di un pacchetto per questo e lo facciamo perché molte persone devono ritornare verso l'Europa. Il pacchetto della crescita, il pacchetto degli investimenti con programmi di investimento che deve avere un obiettivo, mettere le persone al centro della società. All'interno delle frontiere dell'Unione Europea sorge un ventinovesimo Stato ora, nel quale abitano coloro che non hanno lavoro. Uno Stato dove abitano i disoccupati giovani, dove ricadono quelli che restano per strada, che restano emarginati. Io vorrei che questo ventinoesimo Stato membro ridiventi un normale Stato membro e quindi propongo un programma di investimenti ambizioso. Entro febbraio 2015 vorrei avere questo programma di crescita, di investimento, di lavoro, di concorrenzialità e vorrei che fosse pronto per allora. Febbraio 2015 vorrei che nei prossimi tre anni vengano dedicati 300 miliardi di Euro per investimenti pubblici e privati, vengano mobilitati 300 miliardi di Euro. Lo faremo e sarei grato se il Parlamento volesse darci sostegno su questa strada.